buongiorno a tutti la registrazione è stata appena avviata buongiorno procediamo con l'appello grazie sì Caterina perfetto Tallarico Alessandra presente Abate Domenico prego non ho sentito è presente Abate è presente buongiorno buongiorno Chiarappa Patrizio Corrente Giulio buongiorno presente senza giustifica buongiorno Cristiccia Alessandra la vedo ma non eccomi si non riusciva a smutarci ciao Caterina buongiorno presente con giustifica grazie va bene Cunato Piero presente con l'assenza giustifica con giustifica benissimo De Iulis Massimiliano Enrico Filippo Massimo Pizzi Roberto va bene per ora presenti Tallarico Abate Corrente Cristicchi Buongiorno Bene allora la seduta l'apriamo a questo punto possiamo procedere con il primo punto all'ordine del giorno che è l'approvazione del verbale il verbale è caricato nella piazza forma nella sezione verbale in approvazione posso interrompere un attimo la registrazione per procedere ad una protocollazione di una delibera in votazione nella seduta odierna Caterina certo che puoi va benissimo tra 5 minuti il tempo di protocollarla e caricarla sul canale della commissione e mi ricollego grazie va bene va bene rompiamo un attimo sono le ore 9.19 grazie